Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Aveva 72 anni, Livio Giordana, la vittima del terribile incidente stradale, avvenuto questa mattina a lungo via Gorgo a Caselle, frazione di Santa Maria di Sala. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando all'improvviso è stato travolto da un auto in transito. L'impatto è stato violento e l'uomo è finito a terra esanime. Inutili i tentativi degli operatori del 118 di salvare il 72enne che è stato trovato ancora in vita, ma mentre veniva trasportato all'ospedale di Dolo, il corpo non ha più retto le gravi ferite riportate nello scontro. L'automobilista, una donna del posto, si è regolarmente fermata per prestare aiuto alla vittima in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. In queste ore i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, sembrerebbe che l'investimento sia avvenuto mentre la bicicletta stava attraversando la strada, ma solo i risultati delle indagini potranno accertare eventuali responsabilità. Solo poche ore prima, nel pomeriggio di ieri, un altro schianto è costato la vita. Un motociclista di 68 anni, del Padovano, Giorgio Stocco, padre di un giovane di 22 anni, è morto a circa 300 metri dal municipio di Vigonovo, nei pressi dei campi sportivi, mentre stava andando verso casa a Villatora di Saunara, a circa 4 chilometri dal luogo in cui è avvenuto l'incidente. In base alle prime informazioni, la Suzuki 600, su cui viaggiava il Centauro, avrebbe centrato un autocarro che stava svoltando in vicolo Viterbo. L'auto arrivava invece dal Padovano e viaggiava verso Vigonovo, nella direzione contraria rispetto alla moto. Nella conclusione di un sorpasso, la moto e il furgone si sarebbero scontrati e per il Centauro, finito a terra nell'impatto, non c'è stato più nulla da fare. Allora arrivo, gli operatori sanitari del SUEM non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tra i primi a sentire le sirene e giungere sul posto per capire cosa fosse accaduto, il sindaco Luca Martello, l'assessore alla protezione civile di Vigonovo, Ero Scacco, e Andrea Danieletto, con delega ai lavori pubblici. Si tratta di un punto molto trafficato e dove, nonostante siano stati posti diversi autovelox e l'area sia sempre controllata dai carabinieri e dalla polizia locale, spesso i veicoli transitano ad alta velocità. «Siamo vicini alla famiglia della vittima, a cui porgiamo le nostre più sentite, con degli anze», ha dichiarato il primo cittadino. A prendere in carico i rilievi sono stati i carabinieri di Vigonovo, che fanno capo alla compagnia di Chioggia Sottomarina e la polizia locale della Convenzione, tra i comuni del Veneziano e del Padovano, Vigonovo, Stra, 90 Padovani e Saonara. Per il tempo necessario di costruire la dinamica del mortale, la strada è rimasta chiusa e i vicili hanno provveduto alla gestione del traffico. Cambiamo l'argomento per parlare della firma di un protocollo di intesa firmato tra il Centro e Dili Venezia e il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e sancire una collaborazione finalizzata a promuovere la sicurezza nei cantieri e il rispetto dei contratti e la tutela della legalità, anche contro il pericolo di infiltrazioni mafiose. Le due istituzioni intendono infatti provvedere in sinergia alla formazione del personale dell'arma, così da tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, almeno per i prossimi due anni. A sottoscrivere il reciproco impegno sono stati nelle scorse ore il Presidente del Centro e Dili Venezia Cristiano Operale e il Comandante del Gruppo Carabinieri di tutela del lavoro di Venezia, Tenente Colonnello Umberto Geri, alla presenza del Maresciallo Diego Fabio Ricco, Comandante del Nucleo Carabinieri Spettorato del lavoro di Venezia e di Francesco Bortolanna, Direttore Ispettorato Territoriale del lavoro di Venezia. Un'altra rapina con coltello ha colpito la profumeria Sephora in centro, a Mestre. Dopo la spaccata con sfondamento delle vetrate dei negozi a colpi di Tombino, risalente all'autunno del 2022, lo scorso lunedì una coppia di malviventi, dopo aver rubato una bottiglia di profumo, ha puntato contro il personale un'arma da taglio per guadagnarsi l'uscita. L'uomo, un 42 anni di Marghera e la donna di 29 anni, residente a Rossano Veneto, pensavano di averla fatta franca, ma la loro fuga si è conclusa molto presto. Ancora una volta le telecamere, i testimoni che si trovavano nei pressi della profumeria hanno permesso ai poliziotti delle volanti di andare sulla pista giusta per rintracciare i criminali. I due dovranno comparire nelle prossime ore davanti al giudice per rispondere della rapina. L'uomo è risultato avere dei precedenti penali per altri furti, molti dei quali sarebbero stati destinati a rimanere impuniti, visto che i negozianti derubati, dopo la chiamata al 113, spesso avevano preferito lasciar cadere le accuse, senza sporgere denuncia. Vediamo ora l'ultima notizia di oggi. la prestigiosa Accademia di Belle Arti di Venezia ha deciso di ampliare l'offerta formativa con tre nuovi percorsi didattici che saranno disponibili a partire dal prossimo anno accademico 2023-2024. Si prepara infatti a sbocciare una nuova scuola didattica dell'arte che proporà il primo corso triennale in comunicazione, educazione e mediazione dell'arte, un percorso che mira a formare esperti della divulgazione e della valorizzazione del patrimonio artistico. I percorsi di specializzazione si arricchiscono invece con due nuovi bienni, illustrazione e fumetto all'interno della scuola grafica d'arte rivolta al settore dell'editoria e più in generale della comunicazione visiva, e arte e spazio pubblico inserito all'interno della scuola di decorazione che vuole approfondire la ricerca negli ambiti di rigenerazione urbana e valorizzazione dei contesti naturali per mettere in stretta connessione natura arte, design e architettura. Tutti i percorsi saranno sempre associate ad attività come tirocini, collaborazioni e workshop in attivo dialogo con il mondo del lavoro. Per presentare i nuovi percorsi di studio l'Accademia aprirà le proprie porte agli studenti interessati il prossimo mercoledì 6 giugno dalle ore 10.30 alle 12.30 E anche per questa edizione è tutto vi lascio ora i prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!